buongiorno a tutti un altro video sta iniziando questo martedì direttamente dall'italia ottime notizie per la dirigenza della juventus un affare è stato sbloccato la juventus ha ricevuto ufficialmente un approccio dal club turco galatasaray e l'accordo si farà come e per quanto lo scoprirai da adesso questo video è gratuito l'unica cosa che ti chiedo è il tuo like solo questo aiuterà molto il video a raggiungere più persone specialmente più tifosi della juventus come me e te il galatasaray ha ricevuto negli ultimi giorni una brutta notizia il grave infortunio di cardi proprio lui che ha giocato molti anni qui in italia il fatto è che l'argentino non giocherà più in questa stagione e la dirigenza del galatasaray cerca un sostituto che potrebbe arrivare dalla juventus il galatasaray ha contattato la juventus per conoscere le condizioni di milic poiché sono interessati a ingaggiarlo si prevede che milic torni a giocare entro l'inizio dell'anno ma la juventus lo ha già liberato per firmare con il galatasaray a gennaio ora tutto dipende dal giocatore e dal club turco la cessione di milic libererebbe risorse per la juventus da reinvestire in un nuovo attaccante il galatasaray potrebbe offrirci circa 9 milioni